L'Arizzo a Como per uscire da un momento delicato, tanti assenti, incertezze varie. Di Donato si affida un inedito 3-5-2 in difesa Luciani, Nolan e Baldan con Benucci inserito in un centrocampo folto che dica in attacco al posto di Gori, fa coppia con Cutolo, il Como di Banchini anch'esso cerca di tornare al successo. Si comincia con un calcio di punizione dalla 3-4, poi battuto all'improvviso, smarcato in area di rigore, Gans, c'è però la posizione irregolare sulla battuta. Poi vediamo Jovine che sterza la palla verso Gatto, avanza Gatto, rientra, battuta con il destro, la parata di Pissardo. L'Arizzo che batte il calcio di punizione, va a Cutolo, c'è una prima deviazione, la palla carambola su Belloni e la presa di Facchin che blocca tutto al ventunesimo. C'è Jovine, uno dei migliori del Como, riesce a crossare, c'è il colpo di testa di Loreto, la traversa, poi Gans la rovesciata, Foglia che salva. Pericolosissima quest'azione del Como, Jovine, cross col destro, l'intervento da parte di Loreto, traversa, Gans cerca la coordinazione, Foglia ferma tutto. Ancora gran palla di Jovine a sinistra, il padrone in mezzo, Gans, non ci arriva di pochissimo. Arizzo che parte in contrapiede con Cutolo, servito Rolando, a conclusione, la parata di Facchin. Arizzo in avanti con Cutolo che sguscia su Jovine, Rolando, palla dentro, che dira, che dira, spara largo. Per sua fortuna è fuori gioco, altrimenti saremo a commentare un altro errore sottoporta. Poi Luciani rompe nell'azione, conclusione sul fondo nel secondo tempo al diciannovesimo. Calcio di punizione, Jovine finta, invece Kameidat che batte, attenzione, a Gabrielloni. E l'Arizzo che riesce a salvare Gabrielloni, che è il capocannoniere del Como. Como pericoloso ancora, anche se per modo di dire palla sul fondo, su questo corner di Jovine. E poi il calcio di punizione, attenzione allo stesso Gabrielloni. Vediamo se sarà lui a battere al novantunesimo. Paura per l'Arizzo in questo finale. Parte Gabrielloni, barriera, calcio d'angolo. Il Como che cerca il forcing, Arezzo che forse guadagna qualche secondo, qualche giocatore che ha i crampi, tra cui Luciani. Finisce qua, finisce 0-0, un punto per l'Arizzo dal quale ripartire.